bentornati sul canale amici miei oggi voglio parlarvi delle ultime due puntate la quinta e la sesta della seconda stagione di call my agent italia sempre dirette da luca ribuoli che sono andate in onda su sky venerdì scorso ma che ancora non avevo fatto a tempo a vedere l'ho fatto con quasi una settimana di ritardo e adesso ve ne posso parlare ci saranno spoiler quindi nel caso non l'aveste vista recuperatele e poi tornate ad ascoltarmi se mi avete seguito nel corso delle vecchie recensioni ricorderete che vi avevo detto che le puntate precedenti non mi avessero convinto al 100 per cento certo erano carine però le guest star di turno non erano protagoniste di episodi così coinvolgenti come nella prima stagione erano più interessanti le sottotrame relative agli agenti mentre nella prima stagione trovavo un equilibrio più giusto un connubio più sensato mi devo ricredere dopo aver visto il finale di stagione perché ok le prime quattro puntate saranno carine niente di più ma il finale di stagione è veramente bello vi posso dire che dopo aver terminato la sesta puntata io non vedo l'ora di vedere la terza stagione che spero possa esserci quindi che al più presto venga confermata e mi mancano già tutti i personaggi che mi hanno accompagnato in questo viaggio breve ma che ti lascia con la voglia di proseguirlo beh senza star qua a ripetermi troppo già la quinta puntata con la partecipazione di elodie e di dario argento per me è stata bellissima dario argento che sta realizzando questo nuovo film con elodie al contempo però elodie riesce a salvare e risvegliare dal coma un suo fan interpretato da christian day pensate che quel ragazzo lì io l'ho conosciuto per caso su instagram quando durante il covid paolo ruffini faceva delle dirette web quindi su instagram ogni giorno rispondeva a delle persone attraverso le sue live proprio le faceva partecipare alle videochiamate e conobbe questo christian e io mi ricordo che seguivo i loro discorsi e già si capiva quanto questo ragazzo volesse emergere già aveva fatto qualcosina poi l'avevo visto nel pessimo improvvisamente natale film con abbatantuono che purtroppo non mi era piaciuto per niente e adesso lo vediamo invece in un episodio divertente dove lui visto che è stato risvegliato da elodie che canta bagno a mezzanotte si sente in dovere di considerarla sua sorella la sua nuova madre quindi inizia a stalkerizzarla lei all'inizio fa buon viso a cattivo gioco cerca di soddisfare le richieste di questo ragazzino che addirittura la porterà a cena facendo pagare il conto da tutti da tutte le migliaia di persone che seguono quella determinata pagina aperta da lui dedicata a elodie fino a che alla fine elodie non ce la farà più e proprio sul set del film di dario argento dopo che dario argento dirà ma vuoi che ci pensi io lo spavento dario argento veramente auto ironico dopo avermi sorpreso nello splendido vortex di gaspar noè in un ruolo drammatico ve lo consiglio c'è anche la recensione sul canale qua è molto auto ironico molto simpatico e oltre a vedere varie scene di questo film dove c'è del sangue c'è il guanto nero beh è un film un po paranormale con una strega che appare scompare appare scompare non puoi uccidere interpretata da elodie anche lei che sa prendersi in giro c'è elodie che va da da questo ragazzo e l'omina c'è quella scena lì ti mostra proprio la doppia faccia di elodie che può essere tenerissima buonissima ma anche cattiva se vuole ma anche spietata quindi elodie molto brava del resto anche in ti mangio il cuore ha dimostrato una enorme dote recitativa quindi una puntata che mi ha fatto dire caspita fossero tutte così per di più anche le sottotrame sono molto convincenti perché viene fuori viene fuori tutto il discorso relativo alla figlia di di vittorio baronciani quindi c'è tutta la cma che si coalizza contro vittorio e la figlia ed è un finale anche anche triste se vogliamo perché tutti si fanno le loro idee non capendo che invece la situazione è molto diversa rispetto a come pensavano e arriviamo ad un'ultima puntata dove forse il discorso figlia si risolve troppo velocemente avrei fatto sì forse che questa scoperta avvenisse qualche puntata fa perché almeno un episodio di contrasti di allontanamenti l'avrei voluto invece si risolve tutto subito questo è un difetto che trovo potevano risolvere in vista del festival di venezia perché l'ultima puntata con la partecipazione anche di barbera si svolge proprio all'ultima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia e c'è una simpaticissima sabrina impacciatore che arriva a venezia come madrina che scopre che il suo discorso è stato già recitato da altre da un'altra attrice da giuliette binosh quindi come fare deve improvvisarlo varie con varie problematiche che si susseguiranno in quel momento ma abbiamo anche una fantastica manuela fanelli veramente che continua prima la lavorazione con il film che la lavorazione del film con guzzanti e le scene con guzzanti guzzanti io non l'ho mai seguito ma qua mi ha divertito quando ripete a pappagallo quello che vuole lei e poi improvvisa una cosa talmente a caso talmente brutta talmente fuori dagli schemi che lei che lei l'apprezza vabbè e però anche qua c'è un finale in cui si rende conto di illudersi di essere chi non è e quindi piange con sabrina impacciatore che le augura che tutti i suoi sogni possano avverarsi quanto è bello quel momento in cui si passa dal divertimento perché è un personaggio che fa molto ridere perché si sente ormai arrivato lei pensa di essere un'attrice affermata ed invece sono tutte sue illusioni e dice vabbè dai il prossimo anno vedrete però quel momento in cui lei realizza che ormai è un personaggio che si è creato quello dell'attrice che ce l'ha fatta è un momento in cui si mostra la fragilità del personaggio di emanuela fanelli e mi è piaciuto veramente tanto ma proprio tanto 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 così come tutto quel che succede anche a sabrina impacciatore che potrebbe essere presa come protagonista di questa serie kung fu mama per una nuova piattaforma horizon solo che a capo di questa di questa piattaforma c'è marzia la collaboratrice di lea che lei aveva cacciato nel peggiore dei modi nella prima stagione quindi c'è anche il collegamento quindi bisognerà fare il possibile per per far cambiare idea per far essere più buona marzia alla fine ci riusciranno anche perché poi sabrina impacciatore improvvisa questo discorso insomma una puntata che anche stavolta mi ha ricordato quelle della prima stagione e anzi anche le sottotrame riescono ad essere all'altezza di ciò che accade alle guest star c'è anche un momento molto importante che parla del me too perché la ragazza di maurizio lastrico quindi di gabriele viene viene molestata da questo regista e lei ha paura a dirlo anche perché fa parte della cma e quindi non sa come fare si relaziona solamente con elvira elvira che non solo le darà una mano ma andrà a a parlare con il diretto interessato e riuscirà a cacciarlo dalla cma con la promessa che non sarebbe finita lì ed è un momento molto bello perché comunque in queste due puntate si riflette anche si riflette purtroppo su qualcosa di vero lo sappiamo proveniamo dal me too sappiamo anche quel che è successo in italia ed è bellissima quella rivincita che le attrici hanno sul finire della sesta puntata quando a bordo piscina questo regista anche lui a venezia ci stava già provando con un'altra ragazza ma arriva la sceneggiatrice che ha questa storia che sta per iniziare forse con lea e ha scritto la sceneggiatura il mio molestatore gliela fa vedere proprio gliela sbatte in faccia è la mia parola contro la tua no ecco che arriva è anche la mia parola e quindi le ragazze che si coalizzano contro il regista un momento veramente veramente bello lì per lì ho pensato vabbè ora gabriele interverrà schiaffo lui finirà in piscina scena da commedia all'italiana invece no meno male perché forse sarebbe stato un po troppo sopra le righe però è stata proprio una una bella puntata dai temi sia più divertenti e coinvolgenti comunque dai temi più semplici ai temi più importanti quindi molto bello bellissimo vedere venezia con la partecipazione di barbera anche il personaggio di vittorio con monica che finalmente riuscirà a farsi avanti ovviamente mi dispiace da morire pensare che marcia ubaldi ci abbia lasciati una grandissima un grandissimo personaggio di call my agent una bravissima attrice sembrava così in forma io mi auguro che nella terza stagione che spero al più presto confermino l'omaggino nel migliore dei modi me lo auguro veramente perché beh sicuramente dovranno trovare a questo punto un nuovo agente ma anzi potrebbe essere la volta buona per prendere la figlia di vittorio come sostituta di elvira non lo so pure se troveranno altri personaggi però queste due puntate sono state veramente veramente belle quindi sono contento di non aver terminato col my agent italia dicendo un'altra volta vabbè carine ma niente di più perché queste due puntate sono veramente all'altezza di quel che mi aspettavo e adesso avanti tutta perché io voglio rivedere questa manica di pazzi il cast ripeto anche lea saradrago lea martelli è veramente un personaggio così forte così anche in certi momenti drastico quando legge la sceneggiatura il mio molestatore tu spettatore puoi pensare durante le scene dei titoli di coda puoi pensare vabbè questa volta forse ha scritto una sceneggiatura la sua compagna ha fatto l'amore può aver scritto una sceneggiatura più accessibile invece la guarda e la getta via e parte la colonna sonora vabbè quindi grandi quelli di sky che nuovamente fanno centro col my agent italia due puntate consigliatissime nel caso mi steste seguendo senza aver mai visto niente peggio per voi recuperatevi tutti gli episodi ciao e alla prossima ciao